Si allarga il mondo dell'ecosostenibile locale. Anche Piaggine, infatti, sarà plastic-free. Il comune cilentano, guidato dal sindaco Guglielmo Vairo, ha aderito al protocollo d'intesa con la CONSAC Gestioni Idriche, S.P.A. e l'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L'accordo prevede l'installazione di un erogatore d'acqua potabile presso l'istituto scolastico, situato in Piazza Vittorio Veneto. Un progetto ad ampio raggio, promosso in primis da Parco e CONSAC per la tutela dell'ambiente nel suo complesso, volto a sensibilizzare ed informare gli studenti del territorio. Tra gli obiettivi vi è quello di proseguire nella realizzazione delle attività già avviate con il progetto Acquasima Plastic Free. In questa fase, attraverso l'installazione di erogatori di acqua potabile presso gli istituti scolastici dei comuni aderenti al protocollo. Il progetto, che metterà in atto Piaggine, avrà un costo di 500 euro. Nelle scorse settimane, anche in altri comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sono state distribuite nelle scuole delle borracce in alluminio, per promuovere la riduzione della plastica ed una migliore salubrità dell'ambiente. Un movimento, quello del Plastic Free, che sta riscuotendo un grandissimo successo a livello nazionale, che fortunatamente sembra proprio non volersi arrestare.